Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video in cui vi voglio parlare questa volta delle verdure fermentate. Non parleremo solo delle verdure fermentate ma le faremo direttamente. Quindi mettetevi comodi se volete guardare questo video ma soprattutto se volete creare le vostre verdure fermentate procuratevi l'attrezzatura che vi dirò tra poco in modo da poter fare insieme dei bei vasetti di verdure fermentate. In questo caso vi voglio insegnare a fare una verdura in particolare ovvero un vasetto di carote zenzero e rapanelli fermentati e per fare questa ricetta utilizzeremo la tecnica della salatura a secco. Sì perché in questo video parleremo proprio di questo come fare delle verdure fermentate utilizzando la tecnica della salatura a secco che è una delle due grandi tecniche che si utilizza nell'ambito dei cibi fermentati per produrre appunto le verdure fermentate. In un altro video pubblicato tempo fa del quale trovate la descrizione qui sotto ho parlato anche di come fare invece le verdure fermentate con l'altra tecnica che è quella della salamoia. Quindi guardatevi questo video ma se volete sapere di più sulla tecnica della salamoia andate a guardare anche l'altro video e soprattutto se avete delle domande scrivetemi pure dei commenti. Ma prima di addentrarci nella ricetta vediamo che cosa vi servirà per fare questo tipo di preparazione. Partiamo intanto dagli ingredienti ovvero 4 rapanelli, 2 o 3 carote in base alla grandezza, un pezzettino di radice di zenzero anche questa dipende un po' dal tipo di sapore di zenzero che volete dare alla vostra ricetta. Inoltre vi servirà il sale grosso. Questi sono gli ingredienti base. Vediamo invece che tipo di attrezzatura ci serve. Ci serve un coltello per tagliare la verdura, ci serve un vaso per mettere la verdura quando sarà tagliata, poi vedremo le caratteristiche di ognuno di questi oggetti. Vi servirà una grattugia per grattugiare o per tagliare la verdura ed ovviamente ci servirà un tagliere dove appoggiarsi per tagliare la verdura. Ah, vi servirà probabilmente anche una ciotola dove grattugiare dentro tutta la vostra verdura. Ma andiamo per gradi. Prima di partire con la nostra ricetta cerchiamo di capire qual è la differenza tra la salamoia e la salatura secco. Come vi ho detto ho dedicato un altro video alla salamoia, quindi andate a guardare questo video e scoprite i segreti della salamoia. In questo parleremo della salatura a secco. È una delle due tecniche principali per produrre le verdure fermentate. La salatura a secco è sostanzialmente una tecnica che prevede l'aggiunta di sale direttamente alla verdura, a differenza invece della salamoia che prevede la diluizione del sale all'interno di un liquido che di solito è acqua e poi l'aggiunta di questa appunto salamoia alle verdure che noi abbiamo tagliato preventivamente. Quindi mentre la salamoia prevede l'aggiunta di una soluzione di acqua e sale alla verdura e quindi la fermentazione di questa verdura in basi con la salamoia, la salatura a secco invece prevede il fatto che aggiungiamo direttamente il sale alle verdure e le massaggiamo per fare in modo che le verdure stesse producono l'acqua necessaria alla fermentazione. Quindi come vedete sono due tecniche leggermente diverse che si differenziano per queste due cose. La cosa importante da capire è che il risultato finale non cambierà. Noi avremo le verdure fermentate comunque in un caso o nell'altro. Quello che cambia invece sull'utilizzo di una tecnica piuttosto che l'altra è il tipo di verdura che noi stiamo utilizzando. Sì perché dobbiamo sapere che non tutte le verdure possono essere trattate con la salatura a secco mentre invece tutte le verdure possono essere trattate con la salamoia. Quindi la salamoia è una tecnica un po' più generale che ci permette di conservare tutte le verdure, di fermentare tutte le verdure. Mentre la salatura a secco ha diciamo preferenze specifiche di verdure. E quali sono esattamente queste verdure che io posso fermentare con la salatura a secco? Vediamolo subito. La salatura a secco è una tecnica che si applica soprattutto alle verdure, a tutte quelle verdure che possono essere tritate, grattugiate, tagliate molto sottili, affettate. Ecco, tutti questi tipi di verdure potranno essere trattati con la salatura a secco. Prendiamo l'esempio dei crauti. I crauti sono una palla di verdura, di foglie avvolta una sopra l'altra. Noi questa verdura la possiamo tagliare, la possiamo affettare sottilmente, quindi fare delle fettine molto sottili di questa verdura. Poi aggiungeremo a questa verdura tagliata così sottile il sale, così come vedrete tra poco fare con le carote, e quindi andremo a massaggiare questa verdura che rilascerà la sua acqua, eccetera, eccetera. Quindi tutto ciò che voi potete immaginare che si possa tagliare, affettare sottilmente e quindi poi con l'aggiunta del sale massaggiare per poter essere messa via, ecco, tutta quella verdura la possiamo trattare con la tecnica della salatura a secco. Ci sono verdure che non ci permettono di poter essere trattate con una salatura a secco? Sì, ci sono. Queste verdure ad esempio sono i cavolfiori, i broccoli, i peperoni, i pomodori anche, ovvero tutte quelle verdure che noi appunto non possiamo affettare sottilmente perché ovviamente si disfarrebbero, sarebbero troppo intaccate dal processo di fermentazione. Quindi ci sono verdure che si prestano di più per essere fermentate intere, per esempio i cetriolini che in questa stagione sono proprio al loro massimo della crescita, i peperoni anche, le zucchine, ok? I cavolfiori, cioè i fiori di cavolfiori che io vado a rompere, i fiori di broccoli che vado a rompere, questi vanno fermentati necessariamente in salamoia perché non possiamo tagliarli molto sottili, ok? Mentre tutto il resto, tutto ciò che noi possiamo tagliare sottilmente, quindi le cipolle, i porri, i finocchi, le rape di vario genere, il sedano rapa, la rapa rossa, la rapa bianca e le carote eccetera eccetera, ecco tutto questo noi potremo trattarlo attraverso la tecnica della salatura a secco, tecnica che vedremo tra pochissimo. Prima di addentrarci però nella salatura a secco mi presento. Io mi chiamo Marco Fortunato e mi occupo di alimenti fermentati, della produzione di alimenti fermentati, mi occupo di insegnare a produrre questo genere di cibi, bevande, verdure, miso, salsa di soia, garum eccetera eccetera, è molto altro. Ecco io mi occupo di tutto questo, appunto mi occupo di insegnarti a produrre questo genere di alimenti, mi occupo della sicurezza nella produzione di questi alimenti, mi occupo dei processi produttivi, della conservazione e anche eventualmente di come consumarli perché di formazione sono uno chef quindi vengo dal mondo della cucina. Puoi frequentare un mio corso dal vivo da settembre a giugno oppure puoi frequentare un corso online soprattutto nei mesi invernali e nei mesi estivi. Un'altra cosa interessante che puoi fare, puoi venire direttamente a casa mia, ospite da noi e soggiornare per qualche giorno imparando direttamente insieme a me a produrre le verdure o le bevande o il miso o il koji, tutto ciò che vuoi. Si chiama formazione personalizzata e puoi trovare sul mio sito www.imianfermentation.it tutte le informazioni su questa formazione personalizzata ma anche sui miei corsi e sul mio sito troverai anche, oltre alle articoli e ai video, anche i miei videocorsi Tempè, Miso e Koji. Che dire, ti aspetto in un corso dal vivo, online, in presenza o chissà come o semplicemente se hai voglia di farmi una domanda scrivi un commento, contattami in qualche modo anche sui social, io rispondo sempre. Ed ora vediamo di occuparci delle nostre verdure fermentate. Vi chiedo ancora due minuti di pazienza perché ci sono molte persone tra di voi che mi conoscono, che già mi seguono da tempo e quindi sanno bene o male quando parlo di qualcosa di cosa sto parlando. Ci sono però sicuramente tra di voi dei nuovi iscritti al canale, delle persone che mi stanno guardando per la prima volta e quindi voglio dedicare giusto due minuti, un po' di tempo, alla descrizione di che cosa è la fermentazione e come mai se io metto insieme verdure e sale ottengo un processo di fermentazione. Chi di voi conosce già questi argomenti può semplicemente scorrere un po' più avanti come scritto qui sotto in sovraimpressione e andare direttamente al momento della ricetta. Mentre chi è curioso di capire come funziona la fermentazione allora dedicami pure qualche minuto per spiegarti di cosa si tratta. La fermentazione è un processo che trasforma gli alimenti crudi, in realtà anche quelli cotti in qualche caso. È un processo metabolico. Cosa significa? È un processo che avviene grazie al metabolismo di alcuni microrganismi specifici. Questi microrganismi appunto attraverso il loro metabolismo trasformano gli alimenti. In che modo li trasformano? Beh sostanzialmente sottraggono dagli alimenti le riserve di zucchero o di carboidrati per convertirle in altre sostanze che tra l'altro sono molto utili per il nostro organismo. Queste sostanze possono essere ad esempio anedride carbonica, possono essere alcol, ma possono essere molecole molto più interessanti come ad esempio gli acidi ed è proprio grazie alla produzione di questi acidi che i cibi fermentati diventano degli alimenti sicuri. Quindi non solo questi microrganismi trasformano il cibo fermentato, ma lo rendono sicuro. Perché lo rendono sicuro? Perché gli acidi impediranno ai microrganismi patogeni o comunque microrganismi contaminanti di proliferare. Questo per una serie di ragioni chimiche e ragioni diciamo di resistenza di microrganismi patogeni o invasivi agli acidi. Quindi in linea generale si può dire che i microrganismi contaminanti o patogeni non hanno una resistenza agli acidi prodotti dai microrganismi fermentativi. E quindi questa cosa qua va a proteggere l'ambiente in cui questi microrganismi fermentativi si trovano rendendolo appunto sicuro. Ed è questa la grande sicurezza dei cibi fermentati. Un'altra sicurezza poi è legata all'utilizzo del sale. Il sale ha la stessa caratteristica di questi acidi prodotti dai microrganismi fermentativi. Il sale appunto inibisce la crescita dei microrganismi patogeni negli alimenti. Tant'è che i cibi conservati sotto sale sono stati i primissimi alimenti conservati da cui poi sono nati alimenti che noi oggi consumiamo tutti i giorni come i salumi, gli insaccati, i formaggi, ma anche il pane stesso e anche l'uso di mettere sale nelle pietanze in realtà ha un antico legame in questa abitudine di rendere sani i cibi attraverso il sale. Quindi l'utilizzo del sale e produzione degli acidi renderanno questi alimenti sicuri da consumare. Ed è per questo che gli alimenti fermentati stanno diventando così diffusi. Perché sono sicuri da preparare e sono ottimi da consumare. Gli alimenti fermentati contengono le proprietà benefiche dei microrganismi probiotici, ovvero microrganismi che sono in grado di entrare nel nostro organismo e stabilirsi vivi all'interno di esso, quindi contribuendo a migliorare la nostra salute. Bene, ora che ti ho spiegato velocemente cosa sono i cibi fermentati, andiamo finalmente alla nostra ricetta. Facciamo il nostro basetto di carote fermentate, rapanelli e zenzero. Eccoci qua, dopo aver lavato la nostra verdura andiamo intanto a mondarla, cioè a togliere le estremità che di solito sono anche le parti che risultano un po' più malandrate. Quindi togliamo queste estremità. Se la nostra verdura è biologica la possiamo usare interamente, se invece è una verdura che non è biologica è meglio sbucciarla. Quindi questo decidete voi poi come fare. In ogni caso, dopo averla sbucciata o dopo averla pulita, dobbiamo procedere con il nostro taglio. E per fare questo utilizziamo un piatto ed ovviamente utilizzeremo la nostra grattugia. Quindi inizieremo a grattugiare le nostre verdure. Io utilizzerò questo lato della grattugia, ma voi potete anche affettare le rondelle in quest'altro senso. Se voi vedete infatti il mio vasetto è fatto proprio con verdure affettate a rondelle. Ecco qua, dopo aver tagliato, dopo aver affettato letteralmente le mie carole, adesso andrò a tagliare i miei drapanelli. Anche questi li possiamo tagliare a rondelle o li possiamo grattugiare. Decidete voi come fare. Io in questo caso li andrò a grattugiare esattamente come le carote. eccomi qua. E adesso l'ultima cosa da fare sarà aggiungere lo zenzero, che prima dovremo sbucciare. ecco il nostro zenzero e adesso lo andiamo anche questo a grattugiare. Quasi quasi lo faccio con la lama più sottile perché lo zenzero è un po' più tenace come, diciamo, verdura e quindi meglio grattugiarlo più sottile. ed ecco qua. Come vedete lo zenzero è in una quantità più ridotta rispetto ai rappanelli e alle carote, ma ripeto, potete aggiungerne quanto ne volete, quanto ovviamente riuscite a mangiarne. Quindi questa è solo un'indicazione. altra cosa molto importante è che voi potete anche sostituire le carote con un'altra verdura, potete anche non mettere rapanelli o fare solo rapanelli e zenzero, potete anche non mettere lo zenzero e mettere delle cipolle. Ecco questa è una ricetta base per fare la verdura fermentata in salatura secco come volete. Ecco ora che abbiamo tagliato tutte le nostre verdure dobbiamo pesarle perché dal peso delle nostre verdure dobbiamo estrapolare la percentuale di sale da utilizzare. E qui attenzione perché è facile sbagliarsi. Quando parliamo della salatura a secco la percentuale di sale che si aggiunge alle verdure deve essere calcolata sul peso delle verdure stesse. Non va aggiunta acqua. Peso un piatto vuoto per togliere la tara quindi sono 500 grammi di piatto. Il totale della mia verdura tagliata è 790 grammi meno 500 di piatto quindi sono 290 grammi. La percentuale di sale quindi che devo aggiungere deve essere calcolata sui 290 grammi. Quanto sale devo aggiungere a queste verdure? Bene la percentuale di sale va dal circa l'uno e mezzo al due e mezzo tre per cento. In questo caso io farò un due per cento per fare una cosa più veloce. Quindi calcolando il due per cento su 290 grammi sono 3,8 grammi. Io devo aggiungere 3,8 grammi di sale a questa verdura. Ovviamente faccio la tara. Ed eccoci qua. Questa è la percentuale di sale che dobbiamo aggiungere. Ora cosa dobbiamo fare? Nella tradizione della salatura a secco c'è il fatto di massaggiare la nostra verdura. Quindi con le mani vado a distribuire il sale su tutta la verdura ed inizio a massaggiare appunto la verdura stessa in modo che il sale pian piano inizi a tirare fuori dalla verdura il suo liquido di vegetazione che sarà poi il liquido che renderà diciamo che riempirà il vaso in alternativa alla salamoia. Quando noi tagliamo delle verdure in questo modo soprattutto delle carote la quantità di liquido di vegetazione che si libera è tantissima. Infatti vedete è già molto molto abbondante. Questo va molto bene. Quindi dobbiamo massaggiare fin quando appunto spremendo le nostre verdure il liquido di vegetazione non venga fuori abbondante, grondante. Ecco fatto questo abbiamo fatto quasi tutto. Vedete quanto liquido si sta formando. Ok. Ed ora non ci resta che mettere tutto nel nostro vasetto. Ecco qua. Il vasetto ovviamente deve essere ben lavato. Non dico sterilizzato ma se volete sterilizzarlo va benissimo. Un buon lavaggio è sufficiente e anche il coperchio deve essere nuovo o comunque in buone condizioni. Quindi quello che andremo a fare adesso è mettere la nostra verdura nel nostro vasetto. La dobbiamo pressare leggermente. Guardate. Guardate quanto liquido di vegetazione. ecco qui. Ecco guardate. Guardate quanta acqua che hanno fatto tutte queste verdure tagliate. Vedete? devo pressare le verdure leggermente in modo che rimangano sotto l'acqua di vegetazione e voilà la nostra verdura è pronta. Aggiungiamo anche questo liquido rimasto nel nostro piatto e siamo pronti. visto come è facile fare un vasetto di verdure fermentate con la tecnica della salatura secco in realtà è facile farle anche con la tecnica della salamoia. Però come avete visto a prescindere dalla tecnica che utilizziamo è molto semplice. So già che qualcuno di voi avrà delle domande e cerco di rispondere subito. Ovviamente per tutto ciò a cui non do risposta in questo video potete tranquillamente scrivere un commento. Allora partiamo dalla prima obiezione o dalla prima osservazione. Il tappo. Il nostro tappo va tenuto chiuso. Quindi una volta che le verdure sono pronte le dobbiamo chiudere bene. Non c'è bisogno assolutamente di aprire il vasetto per nessun motivo al mondo. Non vi preoccupate. Non c'è bisogno di controllare l'odore. Non c'è bisogno che di controllare che accada qualcosa di strano. Le verdure devono stare chiuse perché il rischio a prendere è che vengano contaminate. Non è una cosa che succede per forza ma più le apriamo e più le possiamo contaminare. Quindi evitate di farlo. Tenetele chiuse e vedrete che nel giro del tempo stabilito saranno pronte. Altra cosa importante. Quanto tempo le dobbiamo tenere prima di aprirle? Ecco il periodo di fermentazione va da circa 3 a 4 settimane. In certi casi per certe verdure potrebbe anche essere più breve circa 2 settimane. Ma diciamo che 3 settimane è il periodo minimo necessario per avere una fermentazione lattica completa. Quindi tenetele chiuse per 3 settimane. Dove le dobbiamo tenere chiuse esattamente? Va bene un ambiente qualsiasi. In questo periodo in effetti c'è molto caldo. Quindi tenerle in un ambiente a 35-40 gradi forse non è il massimo. Però ecco se la temperatura in casa già scende al di sotto dei 30 gradi le possiamo tranquillamente conservare anche in un ambiente con queste temperature ma le possiamo conservare in un ambiente anche con temperature molto basse fino anche a 10 gradi. Quindi come vedete c'è un range di temperature molto ampio da 10 fino a 30 gradi. Quindi il tempo rimane sempre lo stesso. Rimane sempre quello di circa 3 settimane. Come ho detto prima in certi casi, in certi casi eccezionali utilizzando materia prima particolare, questo tempo si può ridurre a 2 settimane come anche si può allungare a 4 settimane. Quindi 3 settimane è il tempo giusto, le tenete chiuse in un qualche posto. Se il vasetto è tanto pieno come questo metteteci sotto un piccolo piattino per un'eventuale raccolta di liquido se dovesse fuoriuscire. Una cosa molto importante che potreste notare nei giorni successivi alla produzione delle vostre verdure è che il tappo si gonfi. È una cosa assolutamente normale quindi non preoccupatevi, non sta andando a male, anzi sta proprio accadendo ciò che deve accadere. Cioè si sta producendo tanta nitride carbonica e questa si va a condensare all'interno del vaso gonfiando il tappo. Altra preoccupazione è se il vaso può esplodere. No, il vaso non può esplodere. Tranne rarissimi, rarissimi, rarissimi casi questi vasi sono fatti appositamente per trattenere la pressione, per contenerla bene. Quindi non c'è assolutamente rischio che il vaso esploda anche perché ad un certo punto la pressione sarà espulsa direttamente dal tappo che è progettato proprio per fare questo. Quindi non vi preoccupate, non esplode. Altra cosa ancora, una volta che sono passate le tre settimane, quattro settimane di maturazione della nostra verdura, quindi quando la verdura ha fermentato nel nostro vasetto, io posso aprirla e mi raccomando una volta aperta conservatela in frigo perché è la modalità migliore. Su questo c'è anche un video nel quale spiego il perché, che è il video sulle poliammine. Quindi andatevelo a cercare nel mio canale e guardatevelo perché appunto spiego proprio esattamente questo. Perché conservare le verdure fermentate in frigo è meglio che conservarle fuori frigo. Quindi le conservate in frigo e le consumate nel più breve tempo possibile, non lasciatene in frigo mesi, consumatele appena possibile, nel giro di qualche settimana, ok? E dopodiché che dire? Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Per tutte le altre domande scrivete pure nei commenti, io rispondo sempre, non mi stanco mai di dirlo. E poi se questo video vi è piaciuto così tanto mettete un like sul video, ma soprattutto seguite il canale perché a voi non costa nulla, mentre per me è molto. Mi permette di essere molto più visibile e quindi anche magari di monetizzare qualche piccolo video, anche se non ho tante visualizzazioni, però alla fine è una piccola soddisfazione per me che metto comunque a disposizione gratuitamente per tutti voi questi contenuti. Quindi che dire? Grazie per aver visto il video fin qui, ti aspetto nei commenti, condividi anche questo video se vuoi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!